Dottor Danilo Mazzacane, segretario generale del gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi. Che cos'è l'amaculopatia? L'amaculopatia è una malattia dell'occhio, non ancora perfettamente conosciuta, ma colpisce la parte più nobile dell'occhio, l'amacula, che è la porzione centrale della retina, deputata alla visione distinta centrale, quella che ci permette di distinguere i lineamenti, i visi delle persone che incontriamo, il panorama che ci circonda, ci permette di leggere e di guidare. Questa patologia può manifestarsi sia in forma secca che in forma umida. Quella più acuta, cattiva, è la forma umida, quella secca è una forma più lenta, la progressione. È importante fare una diagnosi precoce di entrambe le forme per poter avviare la migliore terapia possibile. Già da anni abbiamo una terapia continuativa tramite le iniezioni intravitreali per la forma umida, che si evolve sempre di più con nuovi farmaci che permettono azioni con efficacia prolungata. Prossimamente pare affacciarsi all'orizzonte anche finalmente una terapia anche per la forma secca. È importante il processo di comunicazione, di giusta informazione, affinché il paziente maculopatico, che spesso si lamenta che le persone più cariche che ci sono accanto non si rendono conto della sua problematica visiva. Il maculopatico non diventa cieco completo, conserva una visione periferica, però perde la visione, quella distinta, centrale, che è fondamentale negli atti della vita quotidiana. Come si diagnostica e cosa state facendo per una migliore prevenzione? La diagnosi può essere anche avviata con una semplice autovalutazione tramite il test di Amstler, che ognuno può fare in maniera molto semplice. È importante quando c'è un sospetto diagnostico fare una visita medico-oculistica completa più velocemente possibile, necessita l'ausilio di altri mezzi diagnostici e per avviare a una pronta terapia. Cosa facciamo? Stiamo cercando di fornire una buona informazione su cos'è la maculopatia, una buona comunicazione, in maniera da rendere esplicito il problema. In ogni famiglia sicuramente esiste un maculopatico, se non un parente stretto o una persona amica. Nel frattempo stiamo cercando anche di avviare delle campagne di screening per fare sia il test di autovalutazione, sia che sottoporre coloro che lo desiderano all'esame OCT. L'esame OCT permette di realizzare velocemente lo stato della macula e quindi la possibilità o la necessità di avviare una pronta terapia. Con Comitato Macula, con UGIS, l'Unione dei giornalisti italiani scientifici, con l'Associazione Donne Europee Feder Casalinga, quindi che progetto avete vi ideato? Stiamo realizzando il progetto di screening sottoponendo queste persone a un'autovalutazione e all'esame OCT, in maniera che possano rendersi conto della semplicità sia dell'autovalutazione sia della diagnostica che non richiede l'introduzione di nessun collidio nell'occhio, nessun mezzo di contrasto, quindi è un esame non invasivo della durata di pochi minuti che può essere indispensabile per avviare la diagnosi veloce e quindi una pronta terapia.